Il 13 di aprile all'Aula ha portato con sé solo un libro, due vestiti e un quaderno. Questo è quello che so, tutto quello che so, non posso dire altro. Chi è a me? Di certo non mi piace, non è composto una gente quale se non ho capito in perché. Non c'è niente di speciale. Prima lo capisci e prima ti liberi. Ma ti liberi da chi? Ti liberi dalla paura e dal pregiudizio, per esempio. Che è una paura, l'hai visto? Che pregiudizio, no? Che pregiudizio? Io non ho niente, non è un problema che sia. Un'intera parte del mondo crede di avere qualche merito a stare dove sta. Questo è un pregiudizio. Anche tu credi di abitare la parte giusta del mondo, questo è un pregiudizio. Ma non è così. Noi non siamo dalla parte giusta, siamo semplicemente da una parte. Penso di essere libera. Non stai pensando a tutte le possibilità. A quale possibilità? Libertà è solo una parola. Noi le diamo il significato, dipende da cosa intendi tu. Io sto pensando a una libertà che comprende tutto. Non è. Ma possiamo fare quello che vogliamo, pensi. Magari i nostri genitori non sono d'accordo. Magari qualcuno dirà che stiamo sbagliando. Ma quello è normale. Ognuno ti vede come ti vuole vedere. Tutti pensano che il problema della guerra sia la guerra. Ma non è così. Non è così. Quando sei in guerra, la guerra non ti riguarda. Io devi solo superare tutte le prove, anche le più difficili, e correre. Correre più veloce degli altri. Sempre più veloce degli altri, se ci riesci. Se sparano, corri. Se bombardano, corri. Se ti cercano, corri. E chi muore è andato. Allora, corri. Allora, perché... Allora, corri... Allora, corri. Allora, corri. Grazie a tutti